No ma, guarda, visto che l'argomento è troppo serio e poi la pizza la prendo dopo, però mi avvicino all'amico Gad. Noi abbiamo organizzato proprio questa settimana, e mi spiace che lui non sia venuto, era giovedì, la 7 l'ha seguito molto bene, e ringrazio il direttore Mentana, un convegno per parlare di antisemitismo, perché io ritengo che chi nega la Shoah, l'olocausto, lo sterminio degli ebrei, sia un criminale che va prima curato e poi incarcerato, e chi odia Israele odia me e odia la libertà dei popoli, e ho chiuso questo convegno dicendo viva l'Italia, viva Israele, vicino a tutti gli ebrei in Italia, in Europa e nel mondo, vittime di violenza soprattutto da parte degli estremisti islamici, quindi più di questo non so che cosa fare, mi è spiaciuto che Gad Lerner avesse altro da fare che non venire a questa riunione, l'odio, la violenza, le minacce non fanno né faranno mai parte dell'Italia in cui voglio che crescano i miei figli, fondata sul rispetto, sul volontariato e sulla gente per bene, questo è il messaggio che tengo che parla.